Eni, che sarebbe l'acronimo di About New York, è un artista che, già dal nome non si capisce, si dedica a New York. Perché New York? Perché New York è una città meravigliosa, è il centro di tutto dell'arte, della cultura. Io ho notato in città alcuni dei tuoi ponti gialli, neri. Cosa rappresenta il ponte nella tua fantasia? Il ponte è un passaggio da quello che è adesso a quello che può essere una visione del futuro, una cosa nuova, un nuovo tipo di espressione e, in più, c'è la passione dei punti, delle strutture, dell'architettura di New York e dei punti in generale, che mi fanno impazzire. Come stai declinando la tua arte? Ma allora, adesso mi sto dedicando anche alla serigrafia. Questo è un telaio serigrafico. Per fare una stampa su maglietta, noi posizioniamo il telaio. La serigrafia mi piace perché tu devi crearti i telai. Una volta creato il telaio, dopo il disegno, puoi usarlo per fare sia stampe serigrafiche, che stampe su magliette, su muri, su tele, su qualunque tipo di materiale. E la tua arte a New York l'avevi portata? Non ancora, però l'anno prossimo mi rifarò. Con Annie, About New York, buongiorno la mattina. Grazie. Grazie a tutti.